E' iniziata a Budapest la Conservative Political Action Conference Hungary, la mini edizione ungherese del forum manuale organizzato dall'ala più a destra del partito repubblicano statunitense. L'evento di due giorni alla seconda edizione è organizzato dal Centro per i Diritti Fondamentali, un think tank finanziato da fondi pubblici e filo governativi. Centrale nella giornata di giovedì scorso il discorso d'apertura del primo ministro Viktor Orban, che ha riservato una menzione d'onore a George Soros, a cui sarebbe dovuto il successo mondiale dell'Ungheria. Nella lista degli invitati appare anche il nome di Tucker Carson, l'ex conduttore di Fox News licenziato dieci giorni fa. In un videomessaggio trasmesso al forum, registrato evidentemente prima che lasciasse il celebre canale statunitense, dice Se sarò licenziato e avrò tempo, sarò lì con voi. Grazie